Ciò che sembra è ciò che è. A spasso nei siti archeologici vesuviani con la musica della nostra terra. È l'evento promosso ed organizzato dall'associazione degli ex aluni del liceo De Bottis di Torre del Greco e dalla scuola con il patrocinio del comune di Torre del Greco in programma venerdì 22 ottobre alle 18 al Circolo Nautico. Dopo tanti mesi di comunicazione solo virtuale, spiega la Presidente e la Professoressa Carla Laverde, abbiamo organizzato in presenza l'evento, già previsto per lo scorso 30 settembre, ma poi annullato per il maltempo che aveva reso inagibile gli spazi di Villa Macrina. Ripercorreremo una pagina storica del nostro territorio in cui arte e archeologia ci condurranno alla riscoperta di splendide realtà di pregio e valore internazionale, il tutto accompagnato dalla direzione musicale del maestro Liborio Durzo. Dopo gli indirizzi di saluto degli organizzatori, previsti gli interventi del professore Salvatore Cironappo, docente d'archeologo, e del giornalista nonché portavoce del sindaco Giovanni Palomba, Salvatore Perillo. Salvatore Perillo